Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Oggi è un giorno triste per la prematura scomparsa di Totò Schillaci a causa di un tumore, ma anche la nota cantante Sabrina Salerno ha annunciato sui social una notizia preoccupante. La showgirl dovrà sottoporsi a un'importante operazione per un nodulo maligno al seno. Sabrina ha dichiarato tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento a causa di un nodulo maligno. Sono stati mesi di paura, ansia, ma soprattutto speranza. La prevenzione e la diagnosi precoce possono salvarci la vita. La cantante ha annunciato di essere pronta a sottoporsi a un delicato intervento per un tumore al seno, uno dei più comuni tra le donne. Ha invitato tutte le donne a fare prevenzione, unica vera salvezza di fronte a malattie che non guardano in faccia a nessuno. Sabrina ha condiviso un post sui social che ha suscitato molte reazioni di affetto e supporto da parte dei fan e di altri personaggi dello spettacolo. Elisa Dospina ha scritto forza forza forza, Alessia Marcuzzi ha inviato un grande cuore rosso e Milena Miconi ha mandato tanti baci. Anche Paola Barale, Luca Tommassini, Siria, Simona Ventura, Asi Argento, Melita Toniolo, Antonella Clerici, Eleonora Pedron, Margherita Zanatta, Natascia Stefanenco, Paolo Conticini, Tosca D'Aquino, Alessandra Tripoli, Giovanni Ciacci, Ijalis e molti altri personaggi noti hanno inviato messaggi di supporto alla cantante. I fan hanno inviato i migliori auguri a Sabrina, sperando di rivederla presto in forma e più forte che mai. Grazie a tutti.